Ho creato una squadra composta unicamente da 99 di overall su FIFA 22. Per quale motivo? Beh, qualche mese fa ho pubblicato un video dedicato a una squadra composta soltanto da uno di overall, quindi ora ci tocca fare il contrario. Riusciranno a vincere il triplete? Se sì, lo faranno dai battuti? Scopriamolo insieme. E qualora vi foste persi il video dedicato agli uno di overall, per quale motivo ancora non lo avete visto? Ma soprattutto, lo avete lasciato il like e vi siete iscritti? Finte minacce a parte, non sto scherzando, fatelo. I risultati erano stati a dir poco sorprendenti, erano riusciti a non arrivare ultimi in Serie A, hanno battuto il Tottenham per 2-1 in FA Cup. Insomma, per essere una squadra dei scappati di casa, niente male. Ma sfortunatamente questa cosa significa anche il completo opposto. Ossia che ora sappiamo con certezza che a FIFA non frega assolutamente niente di quanto buona possa essere la tua squadra. Perderà lo stesso contro squadre qualsiasi. Ed è la cosa che temo di più per questo esperimento. Prima di continuare però vi ricordo che tutti i giorni, tranne la domenica, mi trovate in live sul mio canale Twitch. C'è il link in descrizione e nel commento pinnato in alto. E ora andiamo a portare il Monza sul tetto del mondo. Perché il Monza? Oh, mi andava. Monza che tuttavia non giocherà in Serie A, d'altronde non dovrebbe manco starci in Serie A su FIFA 22, bensì in Premier. È il campionato più competitivo al mondo e semplicemente voglio vedere se riescono ad annientare la competizione anche qua. Ma è giunto il momento di dirvi una cosa, di svelarvi un segreto. Non tutti i giocatori hanno 99 di overall. Il motivo di fatto è sempre lo stesso, perché ci sono delle statistiche che non possono essere modificate in alcun modo dal menu di creazione. E quindi viene fuori che alcuni ruoli ci rimettano, in particolar modo in questo caso i ruoli di difesa. Perché le capacità difensive di un giocatore vengono determinate da 3, e dico 3, statistiche. E una di questa non può essere modificata. Perciò a causa di questa roba stupidissima tutti quanti i terzini sono dei 96 e tutti quanti i difensori centrali sono dei 94. Però, hey, tutti gli altri sono effettivamente di 99 e hanno tutti quanti il contratto in scadenza. Che palle! Vi divertirò un sacco, vero, a rifare i contratti? Ah, e qualora vi stesse chiedendo, Tiar, ma che cazzo di nomi hanno questi giocatori? Perché si chiamano Octomozdatichkra? Nome sicuramente pronunciato alla perfezione. Il motivo è molto semplice. Il loro nome è 90, il loro cognome è 9. E questa cosa la possiamo vedere anche semplicemente dal San Marinese 99. Che perché a 24 anni dovrebbero averne tutti 21? Ho sbagliato? Oh cazzo, no, ho sbagliato! Che stupido! Avevo messo come data di nascita di tutti quanti il 9 settembre del 99, quindi 9, 9, 9, 9. E ho sbagliato, mi sa che ho messo un 96 sovrappensiero. Ups! Che poi vabbè, chiariamoci, di fatto sti cazzi di com'è messa in campo la squadra. Perché tutti quanti i giocatori possono coprire tutti quanti i ruoli nel miglior modo possibile. Le statistiche sono uguali, identiche per tutti quanti. Quindi non cambia nulla! E dunque, splendori, contratti rinnovati. Ora non ci resta che capire contro quale squadra potremmo provare con mano questa squadra. Uff! Forse il Tottenham potrebbe essere un buon obiettivo, un buon target. È la squadra che ha perso 2 a 1 contro gli 1 di Overall. Chissà cosa il stragazzo farà contro i 99. Prima, primissima partita del Monza in Premier League. Vediamo come finisce. 3, 2, 1. Io non ci voglio credere. No, io non ci... Che porca di quella tro... Ma davvero? Ma scusa, ma quanto è anticlimatico che la prima partita che sta squadra fa la perda contro la Stoneville a 2 a 1? Poi tra l'altro, 3 occasioni, 2 gol. Questo gioco fa sempre schifo. Si dimostra sempre un enorme... Che in realtà non è che faccia schifo il gioco. È che è infame e bastardo. È una cosa ben diversa. Vi prego, riprendiamoci contro il Brighton. Se no mi incazzo. Grazie mille, molto gentili. Tokiz e Itolu. Abbiamo di mezzo una partita di Eiffel Cup contro il Brighton che vado prontamente a simulare con la formazione di riserva che... Vinciamo ai rigori. Ma com'è possibile che una squadra del genere non domini contro tutto e tutti? Forse devo modificare le tattiche, forse è quello. Ora si gioca contro il Tottenham. Scenderanno in campo ovviamente tutti quanti i titolari. Signori, siamo pronti. Ah yes, signore e signori, buonasera e benvenuti in quel di Londra dove giochiamo oggi al White Hart Lane, che non è manco più lo stadio del Tottenham. Riuscirò a perdere anche questa minchia. Tutte quante le partite che avevo dovuto vincere facilmente le ho perse. Quanto si sente che sono belli lisci, belli finti sti giocatori. Tokiz! Kulusevski imbeccato in area di rigore. Calcio allo svedese, intervento perfetto di Ni. Gran scivolata del nostro numero 4. Kane di tacco. Ottimo il giropalla che porta Holberg a concludere e a portare in vantaggio il Tottenham. Eh raga, sono stato in vacanza dieci giorni, forse qualcosina in più. Non gioco a FIFA da prima di partire. Insomma, è un casino, è normale che uno sia tutto in pepeguito. Madonna, se faccio schifo. Eh rigore pure mo, ma vaffanculo. Eh sì che ho tutto equilibrato, oppure la... come si chiama? L'altezza della squadra molto bassa. Io non me ne capacito. 2-0 Tottenham! Hanno fatto letteralmente due azioni. Il primo gol di Holberg, la seconda, il rigore segnato da Kane. Molto bene. 9 dalla distanza. Bel destro. Vede Neff scattare in profondità e lo serve. Neff! Finalmente troviamo il gol. Red del numero 9 di Haiti. 2-1 per il Monza. Cioè, in realtà 2-1 Tottenham. Ancora lo svedese... Eh, madonna, non è fuori gioco Kane? Ma come non è di fuori gioco? Ma era palesemente... Allora! Doppietta di Holberg e io sto zitto. E ricordiamoci che sti qua hanno perso contro i pepegotti, eh. Cioè, non vorrei dire. Può calciare il numero 8. Lo fa. Gollini c'è! E poi l'ho calciata sul fondo, non ci credo. Cross a cercare Neff sul secondo palo. Ho anticipato. Ma io cosa devo fare? Ho in campo i migliori giocatori possibili del gioco. E non riesco a fare un cazzo lo stesso. Ma guarda! Oh. Fallo. Questo è fallo. Questo è fallo. Rigore di nuovo. Ah, yes. Giustamente, no? Mi hanno tirato una gomitata sul braccio. Il suo braccio si è sposato. Nel frattempo vengono falciate in 17. Però è il tocco di mano. T'affanculo, Harry. Cioè, non glielo tiri giù. Assurdo. No, assurdo. E come disse una volta un grande saggio. Surmacchio! Taglia! Ma figa, ma io non faccio così schifo su sto gioco. Ma è incredibile che ogni volta che provi a giocare una partita io perda e la prenda nel... Di dietrissimo. Vabbè, comunque, tre punti in tre partite è una pessima partenza. Vediamo se va un po' meglio, considerando che c'è anche la Champions da giocare. Insomma. Ok, devo dire che questa squadra è stata abbastanza un diesel. Perché se guardate il mese di settembre fa schifissimo. Tre pareggi su tre in campionato. Due su due in Champions. Una vittoria ai rigori contro Nottingham Forest in Coppa. Insomma, non un gran che. Però dopo quella, al di là di una singola sconfitta contro l'Ester, ha iniziato a macinare vittoria dopo vittoria. L'unico altro in Ciampo è stato il pareggio 2-2 contro il West Ham. Ah, e la sconfitta contro di nuovo il Tottenham in Coppa. Però tutte queste coppie mi confondono. Devo capire come siamo messi a livello di trofei. Ah, in campionato, nonostante lo schifo, siamo comunque secondi a meno tre dal Chelsea. Che è buono. In FA Cup abbiamo passato il quarto turno battendo per 2-0 il Fulham. Mentre in IFL, quindi in Carabao, siamo in finale contro il City. Per quale motivo? Perché abbiamo vinto ai rigori contro il Tottenham. Ok, per fortuna. Almeno i rigoristi sono buoni, sono validi. Mentre in Champions League non ho idea di che cosa abbiamo combinato. Ah, siamo agli ottavi contro la Juventus. Il girone l'abbiamo passato da imbattuti. Al di là di quei due pareggini. Poi abbiamo vinto tutto. E vediamo come proseguono la stagione. Perché secondo me un tripletino ci scappa. Forse addirittura quattro trofei su quattro. E già ci giochiamo il primo contro il City. Tra l'altro, non so se notate. Ma Pfumambo e il Capitano è salito di uno. Così come Ini il terzino destro. Quindi vuol dire che effettivamente agli allenamenti servono a qualcosa. Vabbè, simuliamo contro il City. 3, 2, 1. Primo trofeo in Bacheca. Grandi, raga. Molto bene. Ottima partenza. Ora ne abbiamo altri tre da giocarci. Non è vero. Sto zitto. Abbiamo già perso la FA Cup. Siamo stati eliminati dal Birdmouth al quinto turno. Ottimo. Molto bene. Almeno passiamo ai quarti di Champions. Ormai rimangono campionato e Champions. Quindi avanziamo pian piano e vediamo che accade. Ah, yes. Quarti di finale contro il Liverpool. Tre partite in tre settimane. Beh, doppio 3 a 1. Speriamo che non succeda il casino. Buono. Semifinale di Champions è andata contro l'Atletico Madrid. Che vinciamo 3 a 1. Molto buono. Minchia. Semifinale di ritorno subito. E poi partita finale del campionato contro il Chelsea. Che era la rivale per lo scudetto. Che affronteremo anche in finale di Champions. Minchia. Aiuto. Che stagione aggressiva. Sconfitta all'ultima di campionato contro il Chelsea. Aia. Eh, vabbè. Musichetta della Champions. Anzitutto ditemi com'è finita l'FA Cup. Perché se no mi incazzo. L'ha vinta il City contro il Chelsea. Buono. Vendetta vera. E in Premier. Terzi. Come terzi? A meno 4 dal Chelsea. Che se avessimo battuto... Porca troia. No. Hanno ciocato l'ultima di campionato. Avessimo vinto contro il Chelsea saremmo saliti a 85 punti noi. E loro sarebbero rimasti a 83. Il cash avrebbe messo a pari punti contro il City. Ma per via degli scontri diretti contro il City. Visto che abbiamo vinto sia l'andata sia il ritorno. Avremmo vinto il titolo. Vi prego datemi almeno una soddisfazione. Non chiedo molto. Una singola soddisfazione. Please. Please. Timo fucking Werner al novantesimo. Il Chelsea ha fatto due. Due tiri in tutta la partita. 37% di possesso palla. E finisce 2-1. Vogliamo riprovare un'altra stagione che magari va meglio? Beh. Poi come siamo consueti fare li mettiamo anche in Serie A per una singola stagione e vedere cosa combinano lì. Però adesso devo assolutamente provare una seconda stagione se non mi rimane qua il rosichino. Ma se vi dicessi che abbiamo fatto una stagione identica a quella dell'anno scorso mi credereste? La IFL barra Carabao Cup vinta in finale questa volta contro il Burnley a caso. In FA Cup eliminati al quinto turno questa volta per mano dello Stoke. E in campionato abbiamo fatto come l'anno scorso 82 punti che tuttavia si sono rivelati sufficienti per portarci a casa il titolo. Con il City che è scomp... Dove cazzo ci va il decimo posto? Vabbè non faccio domande. Comunque ottimo attacco. Tra l'altro non ho neanche guardato le statistiche della scorsa stagione da quanto mi giravano i coglioni. Quindi ora le controlleremo. Ma sappiate che abbiamo una finale di Champions contro il Chelsea da giocare. Per il resto a livello di statistiche... Scusatemi! Iva Sefulu Iva, un difensore centrale samoano, ha segnato 23 gol e fatto 8 assist in stagione. Il capitano Mappfumambue Pfumambue ha fatto 13 gol e 6 assist in 13 partite. Il portiere Nente ha fatto 4 assist in 60 partite. È allucinante sta cosa. Iva potrebbe essere il miglior marcatore della squadra. Non lo è! Toxon Tokic, 37 gol e 17 assist. Pallone d'oro assicurato qua secondo me. Pronti a prenderci la rivincita sul Chelsea? Dai! 3, 2... Uh, c'hanno Ziyech Mediano. Ce la possiamo fare. 1! Yes! Yes! Questa volta è andata noi. Minchia, prendevo per il culo Ziyech Mediano ma intanto ha segnato. Oh, così ha molto più senso, cazzo. Così è incredibilmente più sensato. Giusto così, giusto così. Ora però voglio vedere chi vince il pallone d'oro. C'ho questa curiosità. Datevi 6 mesi di tempo che controlliamo. Minchia, oh che sfiga. Stavo per dire che la squadra stava andando benissimo e che era sui binari giusti per concludere la stagione dai imbattuti. Ma poi hanno perso contro l'Ipsia in Champions. E niente, è andata male. Ah, avevano perso anche contro l'United in campionato. Quindi, niente, come non detto. Ah, ah, eccoli qua i candidati per il pallone d'oro. Solo 4, di cui 3 della nostra squadra. Scra, Neff, Tokiz, quindi il tridente titolare e Mbappé. 100-100 vince Mbappé, stai a vedere? Cazzo, il 14 dicembre l'hanno annunciato. Chi l'ha vinto il premio? Tokiz! Bravissimo Tokiz, sempre sul pezzo. Bene, molto bene. Vediamo come se l'accavano in Serie A. Grandi raga, ottima partenza. Eliminati subito al preliminare di Coppa Italia dal Sassuolo. Benissimo. Well, simulazione in Italia terminata e direi che la squadra non ha dominato di più. Cazzo, 90 punti in campionato. Ebbè, ebbè, ebbè. E secondo me ne avrebbe potute fare anche di più se non fosse che a un certo punto il gioco ha detto Sai una cosa? Rubber bending! Cerchiamo di mantenere il campionato competitivo perché dopo la sconfitta contro lo Sassuolo le ho vinte praticamente tutte, tranne due. Letteralmente tutte quante fino al gennaio. Poi arrivi a febbraio. 2-2 con la Lazio. 3-2 col Milan. 3-1 col Genoa. 3-2 con la Fiorentina. E concludi con un 2-1 per mano del Napoli. Bella merda. C'è fatto questo stretch di 5 partiti in cui abbiamo fatto un punto. E basta. Tornate a vincere tutto quanto. E qualche pareggio qua e là. Però sì. Il gioco ha deciso che dovevamo perdere per aggiungere un pochettino di pepe. E vabbè. E così che è andata. A livello di statistiche, com'è quest'anno? Com'è andata? Chi è stato il migliore? Toxon Tokiz. Oh. Toxon Tokiz. Best giocatore. Le ali su sto gioco sono OP. Anche Tshkra non è male. Ebbè, buono, buono, buono. Quindi ragazzi, cosa abbiamo scoperto? Che più forte è la vostra squadra, più il gioco cercherà di mettervi in difficoltà in maniera assolutamente inutile. Ah, devo fare una cosa prima di concludere. E' un gran vaffanculo al Tottenham.